Lavori in corso a Gaza, le macerie lasciate dall'offensiva militare israeliana che ha provocato la morte di oltre 2000 palestinesi e di 73 israeliani, vengono rimosse per lasciare posto alla ricostruzione. In attesa dei fondi stanziati dalla comunità internazionale reunita al Cairo, operai e muratori lavorano con i pochi mezzi a disposizione. Ricaviamo il ferro dal cemento armato, gli israeliani hanno bombardato e distrutto tutte le case e le fabbriche, spiega Ibrahim. Rompiamo le pietre per ricavare nuovi blocchi ed estrarre il metallo, continua Imad. Da 2006, anno del blocco imposto da Israele, a Gaza non può entrare alcun materiale dall'esterno della striscia. Le esigenze sono tante, innanzitutto bisogna far ripartire la crescita, il PIL è stimato in calo del 20% quest'anno, e il lavoro, dato che la disoccupazione giovanile è al 63%. Quando si parla di ricostruzione ci sono due punti importanti. Il primo è l'ingresso del materiale da costruzione attraverso i varchi, senza condizioni o restrizioni. Il secondo è la disponibilità di fondi. Se ci saranno, potremo ricostruire tutto in due o tre anni, dice Najee al-Saran, sottosegretario del Ministero dei Lavori Pubblici. Stati Uniti e Unione Europea sono già scesi in campo con stanziamenti da centinaia di milioni di dollari, ma secondo l'ONU serve un miliardo e mezzo, c'è da ricostruire l'intera economia di Gaza. I palestinesi chiedono a Israele di stabilire subito i limiti alla pesca autorizzata e la ristrutturazione dell'aeroporto.